Ciao ragazzi bentornati su Prophecy by Next Hardware Con l'ultimo video abbiamo parlato delle nuove schede video Nvidia RTX Super A dire il vero con la comparsa anche dell'RX 5700 XT Della Radeon 5700 XT E oggi andremo a provare queste schede video O meglio per l'esattezza L'RTX 2070 Super e la 2080 Super Con il Ryzen 5 3600 X Processore del quale abbiamo già parlato un po' ad inizio mese Sul quale io mi sono già espresso Nell'attesa di portarvi contenuti anche sugli altri Ryzen Io lo considero uno dei più interessanti in assoluto di tutta la nuova line up In realtà nello specifico il 3600 X non è che sia poi così interessante Perché costa più del 3600 e offre anche out of the box praticamente le stesse prestazioni Mi riferisco più che altro al Ryzen 5 di questa nuova generazione Ho in programma davvero tanti contenuti da portarvi sui nuovi Ryzen Probabilmente sfrutterò il mese di agosto proprio per pubblicare Dei video più veloci a riguardo ma che possano tornare utili a tanti di voi E con uno di questi vi mostrerò appunto come ci sia davvero poca differenza Tra l'uno e l'altro e come alla fine convenga risparmiare andando sul 3600 liscio E investire quei soldi magari su un buon dissipatore Ok chiuso la parentesi sono andato quindi ad assemblare la build che vedete All'interno di un nuovo case perché oggi è anche il giorno dell'uscita di un nuovo case Corsair Ovvero l'IQ 220T RGB Airflow disponibile sia in colorazione bianca che nera Molto carina devo dire il telaio è praticamente lo stesso dello Spec Delta Che vi ho portato in un'altra configurazione Infatti anche questo è un mid-tower decisamente compatto in lunghezza La novità principale sta nel frontale che invece è completamente diverso Perché come vedete è afforato quindi è studiato per massimizzare il passaggio dell'aria in immissione C'è questo pannello più esterno che oltre ad essere in metallo è bello robusto Devo dire è molto comodo da togliere e rimettere Ed è senza dubbio una bellissima cosa perché ci facilita la vita Quando vogliamo dare una pulita al filtro o cambiare le ventole A proposito di ventole è equipaggiato di base con tre ventole Quelle frontali che sono le nuove SP 120 RGB Pro Anche queste sono disponibili all'acquisto da quest'oggi E pur essendo addressable dovrebbero rappresentare una soluzione più economica Rispetto alle classiche LL o ML RGB sempre di Corsair Si gestiscono anche queste comunque tramite il software proprietario Corsair Q Infatti all'interno del case è presente come vedete questo controller Il Lighting Note Core al quale ne potete collegare fino a 6 E si connette alla scatamadre tramite cavo USB Quindi a una porta USB interna della vostra MOBO Per il resto solite caratteristiche che ritroviamo ormai un po' in tutti i case Ovvero copre alimentatore, l'immancabile pannello laterale in vetro temperato Il cestello per i drive da 3 pollici e mezzo che potete spostare in avanti O rimuovere all'occorrenza completamente E volendo può ospitare anche dei dissipatori a liquido sia frontalmente che in top Fino a 360 mm per l'esattezza davanti Ma tenete presente che dovrete fare i conti con la vostra GPU Perché come detto lo spazio è poco E quindi lì dove è bella lunga potrebbe andare ad interferire con il radiatore O comunque lasciare davvero poco margine Nonostante considerare ancora su questa fascia di prezzo Siamo sui 110 euro I due Cooler Master, l'H500 e l'MB530P Un po' i best buy Corsair qui ha fatto un buon lavoro Le temperature sono ottime Io ho registrato uno scarto di temperatura di circa 2 gradi Sia per la CPU che per la GPU Tra banchetto e case Ho effettuato i test con il pannello come sempre laterale chiuso E ho aggiunto una ventola in estrazione sul retro Una ML e 2 gradi è un buonissimo risultato Se vi piace quindi il design Se poi siete degli appassionati dell'ecosistema Corsair Sicuramente è un case che può fare al caso vostro Come detto potete aggiungere le ventole a queste nuove SP Molto facilmente se volete metterne di altre all'interno del case Avete già perché c'è già il controller preinstallato Quindi poi vi basta collegare il cavo per l'RGB Installare la ventola e siete a posto Per quanto riguarda il resto dei componenti Trovate tutto in descrizione come sempre Ma comunque al volo la scatamatra è una X570 Aorus Master Decisamente sovradimensionata per un Ryzen 5 Ma al momento ho questa Le RAM sono delle Corsair Vengeance Pro bianche 16 GB da 3200 MHz L'alimentatore è l'RM750X White Sempre per rimanere in tema E poi ho utilizzato anche i nuovi cavi sleeve Che l'azienda americana che è sempre Corsair Ha rilasciato recentemente ad inizio anno Il dissipatore è la Horus ATC800 E la scheda video, anzi le scheda video come detto Sono l'RTX 2070 Super e la 2080 Super Entrambe Gaming OC di Gigabyte Allora faccio questo video fondamentalmente Per dirvi che dopo qualche test La percezione che ho dei nuovi Ryzen Ripeto ancora una volta 3600 o 3600X cambia poco È un po' diversa da quella che avevo Che ho del 1600 o del più recente 2006 Perché va bene state vedendo dei gameplay registrati In 1440p a dettagli alti In queste condizioni lo sappiamo Il carico si sposta molto sulla scheda video Le differenze tra CPU e CPU si assottigliano Ma mi dà proprio l'idea di essere un processore Che ci dà margine Anche quando vogliamo fare più FPS Abbassando il dettaglio grafico Posso dire che finalmente anche Sponda AMD Abbiamo una CPU di fascia media Che poi con il tempo il prezzo In realtà si avvicina più alla fascia bassa O almeno così ci ha abituato AMD Che fa un figurone anche con GPU importanti Come appunto possono essere una RTX 2070 Super O una 2080 Super E infatti secondo me Vedremo molte più configurazioni Di quelle che si sono viste in passato Con il nuovo Ryzen 5 E schede video di questa portata Al di là delle prove in gioco Dove potete notare come l'utilizzo della GPU Sia sempre molto alto Prossimo al 100% Sia con l'RTX 2070 Super Gaming OC Che con la 2080 Super Gaming OC Ho lanciato anche un po' di benchmark Su 7 giochi Ed è uscito fuori che mediamente Tolto Far Cry Che è sempre stato un titolo un po' particolare Decisamente ostico per il Ryzen Si ha uno scarto di poco più del 2% Rispetto ad un Intel Intel 9900K a stock Quindi in queste condizioni Parliamo di differenze Davvero difficili poi da notare Realmente Mentre stiamo giocando Siamo di fronte ad una CPU Che al pari dell'i5 8600K Quando uscì Anche adesso per carità E al 9600K È una CPU che sta benissimo Anche con schede video di fascia alta E non sfigura assolutamente In una configurazione di questo tipo Lasciate stare che la scheda madre Come detto è sicuramente Fuori budget Rispetto al Al 3600K Ma per dirvi che si possono ideare Configurazioni tranquillamente Con un Ryzen 5 3600 E una 2070 Super O anche una 2080 Super Diciamo la 2080 Super Mi sta un po' antipatica Come detto nell'ultimo video Però una 2070 Super Ce la vedrei molto bene Perché no Magari quando escono le custom Anche una RX 5700 XT E tenderò quasi sempre A consigliarvi A preferire Il Ryzen 5 3600 Rispetto all'Intel i5 9600K Perché come ho già detto In altre occasioni Sebbene sia ad oggi Una buonissima CPU Per giocare Il 9600K In un futuro prossimo Potrebbe iniziare Ad avere qualche problemino A causa Dei suoi soli 6 thread Insomma nel giro di un mese Tra nuovi processori Ryzen E nuove schede video Il gaming E soprattutto quello in QHD È diventato Più accessibile Per carità Le schede video Continuano a costare ancora Di più in proporzione Rispetto al periodo Pre-mining Questo non dobbiamo nasconderlo Però di passi avanti Si può dire che Proprio recentemente Ne abbiamo fatti Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like Fatemi sapere con un commento Voi cosa ne pensate Qual è il vostro parere E niente Noi ci vediamo al prossimo Noi ci vediamo al prossimo Noi ci vediamo al prossimo Noi ci vediamo al prossimo